Ciao a tutti, mi chiamo Isabella e nel 2016 ho ricevuto una borsa di studio della Fondazione Roberto Franceschi mirata all'inserimento di studentesse all'interno di ambienti accademici frequentati maggiormente da uomini. Aver ricevuto questa borsa di studio per me ha significato potermi dedicare alla carriera accademica che desideravo senza dovermi preoccupare dell'affetto economico, concentrandomi così al 100% sugli studi. Ho conseguito nel 2020 una laurea triennale in progettazione dell'architettura e al momento sto conseguendo una laurea magistrale in architettura degli interni, entrambi presso il Politecnico di Milano. Oltre all'aiuto economico che ho ricevuto dalla Fondazione è stato anche fondamentale l'aiuto umano che ho avuto soprattutto nella figura di Luca che principalmente all'inizio ha saputo consigliarmi e guidarmi all'interno di questo percorso accademico che avevo deciso di intraprendere.